... Napoli batte Verona-Ellas 2-1, Bui al ventesimo porta in vantaggio i veronesi. All'undicesimo minuto della ripresa, Ambrin pareggia per il Napoli. Per lo svedese è questo il primo gol in campionato. Venticinquesimo da Iuliano Azzurlini che lancia Pogliana, centro teso del terzino sul quale rompe in prota che sigla il 2-1.